Dopo le lezioni era tornata in cattedra mercoledì scorso 23 settembre per poi assentarsi il giorno successivo per malattia, 48 ore dopo il verdetto, positività al covid. È la storia dell'insegnante della scuola primaria di Montegranaro, plesso capoluogo, che ha costretto alla quarantena fiduciare un'intera classe di bambini che ora sono tutti sottoposti a tampone. Il sindaco Mancini ha già predisposto alla sanificazione degli ambienti dei polmini, attuando da subito il protocollo previsto dall'Asur con la scuola che nel frattempo ha ripreso l'attività. La situazione è sotto controllo nel senso che la comunicazione immediata ha fatto sì che ci fossero notizie subito date alla popolazione per evitare caos e allarmismo. Al tempo stesso siamo in una fase delicata in quanto si stanno tamponando tutti i bambini della classe interessata, pertanto in attesa degli esiti dei tamponi chiaramente stiamo aspettando di eventualmente assumere ulteriori decisioni. Comunque i bambini saranno tamponati tutti, nel giro di pochi giorni sapremo se la misura è sufficiente o se occorrerà prendere misure più drastiche. Ecco, in questo momento infatti la scuola è aperta, mentre invece la classe in questione è in quarantena fiduciaria. Esattamente. Diciamo che il fatto che le attività scolastiche siano iniziate secondo i protocolli, vale a dire evitando qualsiasi mescolamento dei bambini nei laboratori, nelle palestre e che quindi i bambini di ogni classe restassero con i propri insegnanti all'interno della propria classe anche nel momento del pasto e della merenda, è una garanzia che si possano evitare contagi più diffusi, quindi questo un po' ci rassicura e ci dà garanzia. Pertanto si è ritenuto, sempre d'intesa con l'area vasta e con la dirigenza, di chiudere soltanto quella classe. Chiaro che se, speriamo di no, dovessero esserci evoluzioni negative si prenderanno in esame ulteriori misure, però posso dire che questa mattina le lezioni nelle altre classi sono svolte regolarmente e le famiglie pur preoccupati, perché siamo tutti preoccupati ovviamente in questa fase delicata di ripartenza delle scuole, però come ripeto l'informazione chiara e tempestiva è importante.